benvenuti e benvenute sono serena e sono un esetista nel video di oggi farò vedere un prodotto styling che abbinerò all'arte cemento e sto parlando di questa crema ricci naturale della pantenne questa questa crema tempo fa se vi ricordate perché ha visto il video l'avevo abbinata a questa sfuma sempre della pantenne volume perfetto però questo abbinamento non mi era piaciuto perché i capelli li avevo sentiti appesantiti e perché comunque questa questa sfuma è leggerina quindi comunque ha bisogno e come abbinamento di un prodotto strong e infatti abbinata all'arte cemento andava bene questa crema quindi va abbinata sicuramente a un gel però un gel strong non un gel leggero perché sicuramente ungerebbe i capelli ecco quindi non andrebbe bene beh ovviamente non è un prodotto bio quindi un prodotto da supermercato e oggi la abbinerò al gel hard cemento questa è una crema molto corposa quindi come vi ho detto prima va abbinata a un gel forte anche se alcune persone che hanno i capelli secchi potrebbero anche abbinarla alla sfuma che vi ho fatto vedere prima però cosa molto importante i prodotti styling possono variare la loro efficacia in base allo shampoo il balsamo o la maschera che si usano in precedenza perché comunque se utilizzate che sono uno shampoo un balsamo una maschera pesanti poi il risultato comunque verrà brutto lo stesso alla fine quindi io andrò oggi ad utilizzare dei prodotti che io mi trovo benissimo e che uso quasi spesso nella mia routine e che diciamo vado a colpo sicuro ecco e sto parlando di questi due prodotti l'ultra dolce che l'avete visto in tutti i video miei a base di acqua di cocco e aloe vera il sun silk one minute che in realtà sarebbe una maschera un trattamento intensivo però per me è un balsamo balsamo però molto districante anche se alcune persone alcune youtuber hanno detto che non era poi così efficace ma secondo me è molto districante però dipende dal tipo di capelli ecco c'è chi si trova bene c'è chi si trova male io personalmente mi trovo bene e poi per finire userò al solito la lacca sempre come la spuma di prima lacca volume perfetto mi trovo bene con questa e la continuerò ad utilizzare per passare poi il gel andrò a utilizzare la falsa spazzola da emman che poi non varia molto con la spazzola da emman e niente questa era la spiegazione dei prodotti che andrò ad utilizzare oggi ci vediamo dopo per farvi vedere e come li andrò a mettere a dopo rieccomi adesso diciamo farò una riga ecco e vado a bagnare i capelli che sono già asciutti una cosa che non vi ho detto prima è che al solito diciamo che lo dico di tutti i miei video lo shampoo lo misuro con il misurino di biofilina dolcana potete trovare sia su amazon che sul loro sito ne uso 20 millilitri diluito col con l'acqua tutto il flacone pieno di acqua adesso li pettino perché poi mi verrà più facile passare la spazzola alla falsa da emman sono un po' secchi perché ho dovuto utilizzare lo shampoo tecco che ieri sono uscita e non potevo lavare i capelli come se mi fossi lavato i capelli secca un po' ecco questo è secca un po' i capelli però adesso cosa molto importante andrò ad utilizzare questo misurino da 2.5 ml e lo riempio tutto praticamente e ne uso in metà cioè lo uso lo metto in tutti i capelli e basta e stessa cosa faccio per il gel ho messo in uno di questo e lo metto in tutti i capelli andrò a mettermi un po' metà in pratica da questa parte da questa parte in realtà ho più capelli quindi dovrei in teoria mettere di più da questa parte e meno dall'altra infatti adesso non lo prenderò tutto mettendo di meno lo metto in qua quel poco che rimane aperto me lo metto in tra me le mani lo metto sulle volte che le secco le tento perché e faccio scratch adesso vado a passare sotto ho tutto ho tutto ma anche questa buona l'ho non vuolta ne che ti senti sono questo misurino ecco via ho tutto Vado a mettere l'età solo da questa parte. Ovviamente le dosi sono soggettive, quindi magari a qualcuno potrebbe servire più dosi rispetto a me, in base a quanti capelli sanno, la volosità, sostenibili grossi, sicuramente sui capelli fini è meglio non abbondare questo prodotto, sennò vengono troppo piatti, troppo volumano. Adesso vado a prendere l'altra metà, poi io faccio così, poi se ne serve ancora lo vado a mettere io stessa, se vedo che ne serve ancora, solitamente lo metto più sulle punte perché è come se il prodotto si asciugasse prima. Adesso si, vado a mettere un po' di prodotto sulle mani e lo vado a mettere un po' sulle punte. e un po' lo vado a mettere, diciamo, all'attaccatura della cute, ok? Diciamo, questo è un prodotto non ingrassa, quindi lo potete mettere benissimo. L'unica, magari, accortezza, lavare le mani, dopo aver toccato la crema, lavare le mani e mettere gel, come ho fatto io. In pratica la cute dal caldo che c'è mi sembra già asciutta. Dovevo in pratica bagnarla, vabbè. Allora, adesso, adesso vado a prendere questa tovaglietta in microfibra e tampono un po' i capelli. Questo si chiama micro-plopping e serve per far asciugare i capelli prime, in pratica. Quindi, in estate è consigliato. La cute, mi sa che non lo farò perché sono già asciutti. E niente, ci vediamo dopo per il risultato finale. Rieccomi, questo è il risultato. Purtroppo la luce, diciamo, non rende moltissimo, però qui c'è l'aria condizionata e nelle altre stanze non c'è. Quindi ho dovuto arrangiarmi. E il risultato non è male. Sì, forse lo lasciate un po' umidi, però il risultato è buono. Gli appesantiti non li sento. Non sento nemmeno la crema che è rimasta, ecco. E mi sembra un buon avvinamento, che io in realtà avevo già provato. Per questo comunque l'ho rifatto, perché comunque il risultato mi era piaciuto. E quindi l'ho voluto rifare. Ecco, come avete potuto vedere nel video, non ho utilizzato la spazzola Denman, ma per una semplice ragione. Primo perché per ora li sto vedendo troppo secchi, quindi se li andavo a pettinare li avrei danneggiati ancora di più. Quindi ho preferito li pettino prima con un po' di acqua e poi passo tutti i prodotti. Così è molto meglio. E poi volevo vedere se riuscivo ad avere un po' più di volume senza la spazzola Denman. E secondo me ci siamo riusciti, sì. Anche se, devo dirvi la verità, più o meno spazzola Denman o non spazzola Denman, il volume più o meno mi sembra sempre questo. L'unica cosa, magari spazzola Denman, questo punto qua sicuramente sarebbe venuto un po' più definito, ecco. Solo questo. Però, non so se si vede, più o meno, sarebbe venuto magari un po' più definito. Però, a parte questo, mi sembra molto buono il risultato. Io comunque ho pochi capelli, quindi non posso spirare chissà che, ecco. Questo è un abbinamento che sicuramente, se avete i capelli come i miei, vi consiglio. E niente. Questo è tutto. Ci rivediamo presto con un prossimo video.